Quando il gioco si fa duro e i duri scendono in campo, parafrasando così un luogo comune, si può sintetizzare quello che sta oggi accadendo all'interno del Partito Democratico Molisano. I fatti degli ultimi giorni parlano chiaro, i renziani che organizzano ad Agnone la festa interregionale dell'unità, evitando accuratamente di far intervenire al dibattito Roberto Ruta, Danilo Leva e Massimiliano Scarabeo, gli anti-renziani o meglio anti-fratturiani che organizzano a Isernia la visita del Presidente della Commissione Cultura del Senato in assenza della nomenclatura molisana del Partito Democratico. Insomma, si procede a colpi di clava e le novità sono in arrivo a stretto giro di posta, basta dare un'occhiata alla bacheca su Facebook di Massimiliano Scarabeo per capire che vento tira. Due i post più significativi, il primo, dove il consigliere regionale ricorda, a distanza di sei anni, la nascita di Alternativa, il movimento politico guidato da Roberto Ruta, commendando così, a distanza di sei anni, nostro malgrado, ancora peggio. Il secondo post, quello in cui attacca frontalmente l'assessore all'agricoltura, Vittorino Facciolla, con parole abbastanza significative, dicendo «Ritengo che sia utile che tu faccia chiarezza sugli incarichi all'Arsap. Non penso proprio che l'infornata di amministratori locali, contraattualizzati quasi contemporaneamente alle provinciali, sia una mera coincidenza». Andrea Romano di Spinete, contraattualizzato nell'area comunicazione. Michelina Iannetta di Boiano, avente già un contratto regionale, risulta essere anche lei contraattualizzata nell'area comunicazione. Francesco Desiderio di Campomarino, contraattualizzato nell'area giuridica. Nicola Montagano di Bonefro, Francesco Trolio di Acquavio a Collecroce, Maria Saveria Reale di Sant'Elia Pianisi, Saverio Nonno di Fossalto, Antonello Savino di Gildone, Michele di Bartolomeo di Ripalimosani, Remo Giuseppe Grande di Guardia Fiera, Giancarlo Grazia Plena di San Martino in Pensilis e Antonio Gabriele Staniscia di Petacciato, assistenti e a supporto delle varie aree. Davanti ad una graduatoria del genere c'è veramente da restare perplessi. Così chiude il suo post Scarabeo, gettando ancora benzina sul fuoco che sta divorando il partito democratico molisano.